Bene, allora cos'è questa storia ragazzi? Qui mi stanno raccontando, è due mesi che non sento parlare d'altro che di fermare sta musica Cos'è questa storia di fermare la musica? Ma non è nient'altro che il titolo del nostro nuovo singolo Ah! E chi fermerà la musica sono chiaramente quelli che non si sbagliano Naturalmente! Perché quelli che non si svegliano stanno nei porti a tagliarsi le vele Ah, a tagliarsi le vele! Ah, sei diventato anche un battutaro adesso No, io ho solo riferito quello che Negrini ha scritto Ah, questi sono parole della canzone Che anteprima ragazzi, che anteprima! Allora stiamo parlando del nuovo 45 Giri dei Pu Niente proprio di meno Che esce a giorni Esce a giorni, siamo in sala d'incisione come avete visto Quindi naturalmente in pieno marasmo, ovvero in pieno lavoro naturalmente Beh, tu, scusa, adesso parte il fatto Ma voglio dire, tu e gli altri ragazzi a che punto siete col lavoro qui? A un punto morto fino a che entrate a fare l'intervista Ah, 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 ah Beh, allora vediamo di andare a trovare qualcuno